Sono Monica Busatto della L'Ovo Italia, siamo qui allo stand L'Ovo a Lisbo 2014, ci siamo lasciati nel 2013 con i festeggiamenti del novantesimo anniversario, è un'eccellente campagna vendita estiva. L'Ovo continuerà a puntare sulla qualità fit con una produzione made in Europe, quindi ogni singolo file di scarpe di questa collezione è prodotto in Europa, questo è l'unico modo per garantire un virtuale servizio clienti. Conosciamo tutti il nostro Renegade, il nostro best seller del 2013 con 10 colori da donna e da uomo, la versione foderata in pelle con un'eccellente fit che calza come un guanto, la limited edition da donna in svariati colori vivaci e infine anche la versione vintage fatta proprio per la collezione diciamo per l'anniversario di L'Ovo. Non poteva mancare allora nella collezione invernale una Renegade Ice GTX sempre con una tomaia in pelle nabo pregiato, una fodera in Gore-Tex e parte lana dove garantiamo un eccellente comfort e un fit inegualiabile. Il nostro brevetto mono wrap della L'Ovo garantisce stabilità e la L'Ovo ha sviluppato e prodotto questa suola G3 con inserti in tessuto che garantisce un 15% in più di grip su superfici bagnate e su non va mai fuori moda qua alla L'Ovo.